buongiorno a tutti i lettori di out of beat siamo in compagnia oggi di due batterie power bank di casa lumsing con dimensioni e caratteristiche differenti vediamone subito il contenuto partiamo dalla più grande più grande che si presenta con una capacità da 10.400 mAh per i dettagli tecnici poi metterò il link nell'articolo e sotto al video andiamo di aprirla senza far danni ok sempre carine le confezioni di lumsing che sono realizzate in materiale riciclato al fine di rispettare l'ambiente all'interno troviamo questa bella confezione come state vedendo è molto ben confezionata la batteria questa batteria che adesso vediamo nel dettaglio bello il materiale se è plastica quasi sicuramente però da un ottimo feeling al tatto bella anche questa parte che vedete un po un po zigrinata molto carina vediamone subito le caratteristiche esterne due porte usb ricarica un ampere e 2.1 ampere tasto per l'accensione 4 led che indicano lo stato di ricarica e porta micro usb appunto per la ricarica della batteria stessa all'interno della confezione troviamo anche un sacchettino in panno per riporla un po di manualistica che non vediamo e un cavetto micro usb a usb classica 2.0 per la ricarica del device questa era la prima batteria che vi ricordo solo marchio lumsing e capacità da 10.400 mAh vediamo adesso quell'altra che ha una confezione più compatta in quanto il design è leggermente differente questa qui ha una capacità da 13.400 mAh quindi un po più grande un paio di ricarica una ricarica in più almeno su gran parte dei device allora vediamo il contenuto qui non ci sono libretti anzi sì c'erano però li avevo tolti io precedentemente scusatemi e vabbè non ve li mostro perché comunque sono i soliti libretti in manualistica classico cavetto usb micro usb e all'interno della batteria ecco qua dove era il libretto che cercavo prima batteria che ha un colore leggermente differente sembra quasi il rose gold del iphone mi piace mi piace un sacco sicuramente una splendida batteria per un pubblico femminile anche comoda e compatta nelle nelle dimensioni caratteristiche vabbè qui in fondo ci sono riportati i dettagli delle della batteria marchio lumsing qui come potete vedere sono posizionati i quattro led che indicano lo stato di ricarica sul lato frontale troviamo le due porte per la ricarica la porta micro usb per la ricarica del power bench e una flash led da utilizzare come torcia sul lato ha posizionato appunto il tasto per l'accensione vediamo insieme i due prodotti e li vediamo a confronto con un iphone per vederne le dimensioni vediamo che iphone 6 e 6 plus quindi comunque è abbastanza grande e le dimensioni sono comunque molto ridotte per entrambi i prodotti design differenti forme differenti però dimensioni contenute capacità di ricarica ottime per entrambe sicuramente dei prodotti interessanti come tutti i prodotti di casa lumsing un ringraziamento va appunto dato al produttore che ci ha fornito il materiale e un ringrazie va anche a voi che avete visto il video da vittorio tiso per out of beat è tutto grazie per aver visto il video di nuovo grazie per aver guardato il video di nuovo